Questo programma contiene linguaggio volgare, temi non adatti ai minori e scene che alcuni potrebbero trovare offensive. Conterò da cinque. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Hunt, puoi togliere gli occhiali della paura. Sei una testa di... Sei un imbecille. È un bel tatuaggio, ma sei una testa di cavolo. Per favore, raccontatemi la storia, muoio di curiosità. Hunt ha una vera e propria fissa per le donne più grandi. Donne più grandi di quanto? Non così vecchie, a dire il vero. Lui è andato a letto con una così quando aveva 18 anni. Cosa ha detto Hunt? Ti piacciono le nonne? Era più vecchia di sua nonna. Quanti anni aveva? 67. 67? Bisognerebbe proprio denunciarla. Nemmeno io mi farei una di 67 anni e sono Scottie T. Non fargli vedere la gamba, Hunt, prima che si faccia anche quella. Grazie. 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 Grazie.